Questo è il sudario della collettività, no? E dentro la collettività c'è il mio piccolo sudarietto che cerco filmando Rikas di tenerlo il più pulito possibile evitando il fango che ti getta addosso alla gente il mitragliamento alle spalle, la pugnalata alla schiena e pensando solo alla divina proporzione di Leonardo che è la cosa più equilibrata e mi piace molto questo video è un quadro che mi sono comparato per me Grazie